Il Tribunale dell'Unione Europea ha annullato la decisione della Commissione Europea che aveva qualificato come aiuto di Stato il regime fiscale di quattro club della Liga Spagnola, Real Madrid, Barcellona, Osasuna e Athletic Bilbao. Bruxelles nel 2016 aveva stabilito che questi club per circa 20 anni hanno pagato le tasse venendo considerate società sportive senza scopo di lucro in virtù di una legge del 1990, un trattamento che la UE ha ritenuto ingiustificato e contrario al mercato interno, chiedendo quindi al governo spagnolo di recuperare quelli che considera aiuti di Stato illeciti. I club hanno impugnato la decisione davanti al Tribunale, il quale ha dato loro ragione. La Commissione è in corsa in un errore nella valutazione dei fatti, si legge nella sentenza e continua, non ha assolto all'obbligo di provare che la misura controversa conferisse un vantaggio ai suoi beneficiari.